Ok ragazzi, nuovo video, oggi voglio parlarvi di 5 alimenti, 5 fonti di carboidrati che probabilmente non state mangiando, non state inserendo nella vostra alimentazione. Perché voglio farlo? Perché tendenzialmente sono arrivate molte domande dopo il video riguardo al non tracciare i macros, riguardo alla rigidità o meno dell'alimentazione della serie. Ok, se non traccio i macros, allora automaticamente devo avere un'alimentazione sostanzialmente statica, mangiare sempre gli stessi alimenti e così non è assolutamente, lo vedete dalle nostre storie di Instagram, da quello che mangiamo. Per chi ci segue su Rhinonation, dalla nostra alimentazione che postiamo sui nostri log, abbiamo un'alimentazione super super varia, non c'è bisogno di mangiare sempre le stesse cose. Oppure, cioè, l'alternativa non è o mangio sempre le stesse cose, oppure se voglio inserire qualcos'altro la devo stare attaccato ad un'applicazione e tracciare tutto quanto con i macros. Quindi per questa ragione voglio darvi qualche spunto, qualche spunto che non vuole essere esaustivo, nel senso che non sono le uniche fonti che potete verosimente inserire nella vostra alimentazione, però sono delle fonti che io personalmente vado ad inserire. Io, come Ludovico, nel senso che vado ad inserire perché le preparo io. Poi Giorgia prepara 70.000 cose differenti, quindi la mia alimentazione è molto molto più varia, però voglio darvi queste qua perché semplicemente sono facili da preparare, perché se ci riesco io, verosimente, ci potete riuscire anche voi, quindi ce la potete fare. E sono probabilmente delle fonti che magari molti di voi utilizzano, anzi, ci tengo alla fine del video che se ci sono alcune fonti che voi utilizzate e tutto il resto, la scrivete qua sotto perché così collezioniamo un po' di alternative, però magari le utilizzate, magari no, io ve le lascio qua. E sono delle fonti super super comode. E la prima, anzi le prime due, in assoluto, che vedo che hanno stupito molte persone nel momento in cui hanno scoperto che le utilizzo, sono i cereali di riso o di mais, ossia i cornflakes, fiocchi di mais, oppure quelli che sono i fiocchi di riso, i rice krispies. Non so se avete presente della Kellogg's, per esempio i cornflakes sono quelli classici con il galletto, mentre i fiocchi di riso sono quelli con i tre elfetti, con lo sfondo blu, i rice krispies. Ora, non c'è bisogno che logicamente li prendiate dalla Kellogg's, però normalmente sono quelli un po' più buoni, diciamocelo. Sostanzialmente i fiocchi di mais e i fiocchi di riso sono 95 fino al 99% mais o riso, rispettivamente, quindi una fonte molto molto plain e in genere ci aggiungono un po' di vitamine per arricchirli e dello zucchero, però stiamo parlando veramente dell'1%, quindi se andate a prendere per esempio un pasto con 100 grammi di cereali, di riso o di mais, state mangiando un grammo di zucchero inteso come saccarotico, quindi non è esattamente un male. E sono delle fonti che io adoro perché sono super 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 digeribili. Potete farli con del latte di soia, del latte se lo avete nell'alimentazione, magari scremato, potete farlo anche con le whey, io normalmente lo faccio con le whey, nel senso che faccio le whey con l'acqua, non ne metto troppo in modo che venga una specie di cremina e poi ci aggiungo i cereali. Non viene un effetto cereali bagnati come nel latte, però viene un effetto diciamo abbastanza amalgamato. Se andate a vedere gli episodi su The Rice ogni tanto lo faccio vedere e mi ci trovo veramente veramente bene perché sono una fonte molto plain, però le whey, soprattutto le isofuge che sono veramente deliziose, aggiungono quel gusto di cacao, caramello, insomma dipende dal gusto che scegliete. Ora, l'unico problema di questa fonte, problema tra virgolette, è che essendo super digeribile, super semplice, ha anche un alto indice glicemico e se lo assumiamo in un pasto da sole con le proteine, hanno logicamente un carico dicemico molto forte, quindi dobbiamo stare attenti eventualmente a tamponare questa botta glicemica barra insulinica. Come fare? Allora, innanzitutto i due casi in cui vado ad utilizzare queste fonti sono nel pre e nel post workout perché voglio una fonte di carboidrati che sia quanto più plain e semplice possibile. Nel mio pre workout voglio e ci tengo a mantenere un'immissione del torrent ematico, del glucosio, comunque un livello di glicemia tendenzialmente stabile perché non voglio avere uno spike troppo esagerato che mi può portare a situazioni di ipoglicemia reattiva mentre mi alleno sostanzialmente. Quindi vado ad assumere questo pasto circa un'ora fino anche a due ore prima, dipende da quanto è abbondante, e per tamponare un filo questo spike insulinico normalmente aggiungo una fonte di grassi. Ho già fatto un video su come e cosa assumere nel pre workout, io normalmente assumo la pasta di cacao, che è una fonte di grassi veramente ottima a livello proprio di composizione di acidi grassi. Inoltre va a stimolare la dopamina e l'ossido nitroco, quindi ho un effetto di veglia, reattività, lucidità e pompaggio muscolare. Normalmente aggiungo 20 grammi di pasta di cacao nel mio pre workout insieme ai cereali. E attivamente sto aggiungendo anche una banana che è un'ottima fonte di potassio, contiene anche le fibre, quindi ovviamente mi dà quel qualcosa in più per abbassare questo impatto insulinico. E oltre a questo vado ad inserire ovviamente l'insolumine R che è un GDA che mi permette di veicolare al meglio questi carboidrati nel tessuto muscolare, quindi avrò una glicemia stabile, questi carboidrati man mano verranno inseriti a livello del compartimento muscolare, quando vado ad allenarmi logicamente le scorte sono super super cariche e il pompaggio è veramente veramente massimo. Ora ovviamente sapete che io utilizzo normalmente anche l'intra workout e questo mantiene i livelli stabili. Quando li vado ad utilizzare nel post workout, anche in questo caso sono una fonte geniale, fantastica, super super digeribile, li vado ad assumere anche in questo caso con le whey per massimizzare l'assorbimento, normalmente circa mezz'ora, tre quarti d'ora dopo l'allenamento, tempo che il mio sistema nervoso autonomo passi e shift in parasimpatico, quindi io mi tranquillizzi e la digestione sia ottimizzata, e di questo anche ho parlato, e in questo caso non aggiungo alcuna fonte di grasso, perché i GLUT4 e i recettori a livello muscolare sono pronti a essere recettivi, quindi semplicemente tutto quello che vado a dargli va a essere stoccato subito nel tessuto muscolare, quindi l'assimilazione è comunque ottimizzata. Ora, seconda fonte che utilizzo è il couscous. Il couscous è un alimento normalmente utilizzato nel Nord Africa o anche nel Sud Italia, in Sicilia, e non è altro che granelli di semola di fermento, quindi stiamo parlando di grano, banalmente super super digeribile, anche in questo caso c'è da tamponare un minimo lo spike insulinico, perché stiamo parlando di una fonte di carboidrati puri con un forte indice glicemico. Il couscous personalmente lo vado a preferire nel post-workout, perché nel pre-workout io preferisco tendenzialmente un alimento dolce, non so, mi trovo meglio. Comunque lo vado a inserire nel mio post-workout, in questo caso plain, perché di nuovo non mi interessa troppo questo discorso del spike insulinico, l'unico discorso è che essendo frumento per soggetti che sono sensibili al glutine, una sensibilità conclamata, diciamo, rivista, allora in questo caso non abusatene. Per la preparazione è molto molto semplice ragazzi, prima del vostro allenamento, prendete il vostro couscous, che sia un salento 200 grammi, non lo so, ci aggiungete dell'acqua bollente e lo lasciate là a riposare. Dopo l'allenamento sarà tendenzialmente pronto. Per quanto riguarda le proporzioni, potete fare dalle 2 alle 3 volte l'acqua rispetto al peso del couscous, quindi per esempio 200 grammi di couscous, aggiungete dai 400 ai 600 grammi di acqua o ml d'acqua, più o meno stiamo là, e lo lasciate a riposare, il couscous assorbe tutto quanto. Se volete, oltre all'acqua, aggiungete anche delle spezie, in modo che va a insaporirsi per bene, e del sale, in base a quanto volete salare, e nel momento in cui è pronto, tornate dall'allenamento, starà lì ad aspettarvi e eventualmente ci aggiungete qualche verdura, ci aggiungete il pollo, una fonte di carne digeribile, eccetera. In questo caso, logicamente, evitiamo di aggiungerci le whey. Non ho mai provato, sinceramente, il couscous dolce, però non credo che sia esattamente il massimo, ok? Quindi, anche in questo caso, è veramente, veramente facile da preparare, ragazzi. Potete farlo, è a prova di idiota da cucina, come è sottoscritto. Ok, terzo alimento, le patate. Le patate, e soprattutto le patate dolci, sono un alimento che probabilmente molti di voi mangiano, ma secondo me tendenzialmente si utilizza poco, e sono un alimento fantastico. Innanzitutto sono un tubero, e rispetto ad altre forme di verdura, contengono principalmente amido, quindi sono un alimento amidaceo. E questo è super vantaggioso, perché hanno un contenuto, logicamente, di carboidrati molto, molto elevato. Ora, io non amo utilizzarle nel pre e nel post-workout, perché sono pasti, per me, molto glucidici, quindi le patate tendono ad avere, comunque, a essere poco dense a livello nutrizionale. In poche parole, hanno circa un 17-20 grammi di carboidrati, in base a se sono normali, dolci, la provenienza, e tutto il resto per etto. Quindi, logicamente, per arrivare a mangiare un 170 grammi, per esempio, di carboidrati, dovremmo farci un chilo di patate, che inizia ad essere tanto, e pesano tanto a livello digestivo. Però il vantaggio principale delle patate, è che, mangiandole con la buccia, perché, ragazzi, vanno mangiate con la buccia, tendono ad avere un buon contenuto di fibre, quindi a tamponare quello che è un eventuale spike insulinico. Per cui sono una fonte di carboidrati che io prediligo lontano dall'allenamento. Quindi, se ho, e normalmente ho, dei pasti con una fonte di carboidrati che siano lontane dall'allenamento, che può essere, magari, una cena, che può essere un pranzo, non so, dipende un po', da come avete strutturato il vostro piano, allora, in questo caso, le patate sono sicuramente un ottimo alimento da inserire. Sono particolarmente ricche di vitamine B, sono particolarmente ricche di potassio, sono ricche anche di vitamina C, ma, normalmente, in cottura, insomma, una cottura bollita, tendono a perderla, perché la vitamina C è una vitamina idrosolubile, quindi, quel contenuto, purtroppo, tendono a perderlo. L'unica cosa importante, mangiatele appena fatte, quindi, né crude, logicamente, ma neanche fatte il giorno prima. Quindi, se le fate il giorno prima, le tenete in frigo, e poi le mangiate il giorno dopo, fredde, quello che succede è che l'amido va a retrogradarsi, e quindi, sostanzialmente, molto poco digeribile. Per cui, sostanzialmente, potremmo creare dello stress intestinale, soprattutto non andiamo a digerire quel che mangiamo, che non è esattamente una cosa intelligente da fare. Quindi, patate, altro ottimo alimento da inserire, questa volta, negli altri nostri pasti della giornata. Ok, altro alimento. L'anno scorso, mi avete seguito in tanti, perché vedevate che ne facevo veramente largo uso, ora, qua in UK, lo utilizzo molto meno, perché costa veramente, veramente tanto, perché si trova nel reparto bambini, eccetera, che è la crema di riso, la cream of rice. La crema di riso è sostanzialmente riso, quindi, realmente, stiamo parlando sempre dello stesso solito alimento, però ha due vantaggi. Innanzitutto, il fatto che, normalmente, quella che troviamo in commercio, che sia della Mellin, della Plasmon, non lo so, è arricchita con fonti di vitamina B. Questo, logicamente, per, diciamo, motivi commerciali, principalmente, perché è indirizzata ai bambini, quindi le mamme sono super apprensive e ben venga qualcosa che è arricchito con vitamine, però, insomma, male non fa. È, logicamente, minimo la componente di vitamine che vengono aggiunte, però, di nuovo, male non fa. E, in secondo luogo, i termini e i processi di controllo degli alimenti destinati all'infanzia sono molto, molto più severe rispetto agli alimenti per adulti, quindi, anche in questo caso, avremo un alimento, tra virgolette, più sicuro, questo è il motivo per cui tendenzialmente tendono a costare tanto. La crema di riso è, logicamente, una forma di riso super, super digeribile, quindi, in questo caso, dobbiamo stare attenti sempre al discorso dello spike insulinico, che può essere molto, molto elevato, per cui, personalmente, io la preferisco da mangiare nel mio pre-workout, di nuovo, assistita da una fonte di grassi, che anche in questo caso è la pasta di cacao. La preparazione è veramente, veramente banale, ragazzi, di nuovo, come il couscous, crema di riso, dalle due alle tre volte di parti d'acqua, quindi, per esempio, un etto di crema di riso, aggiungiamo 200 ml, fino a 300, volendo anche 400 ml d'acqua, e in questo caso, l'acqua deve essere bollente, in questo caso, normalmente quella della mellin, automaticamente, viene fatta, cioè, tende a farsi, perché è istantanea. Ci sono altre forme di crema di riso, che hanno necessità di essere passate, ogni tanto al microonde, però, veramente, è molto, molto stupita la preparazione. Potete aggiungere delle spezie, potete aggiungere, ad esempio, la cannella, e potete aggiungere, logicamente, le whey aromatizzate, che in questo caso, danno quel sapore in più. Piccolo, piccolo consiglio, per 100 g di crema di riso, aggiungete un grammo di sale. So che sembra un'amenità, perché la mangiate dolce, però vi assicuro che va a tamponare, e controbilanciare il sapore, rendendolo più corposo, e logicamente, se il vostro pasto pre-workout, vi dà quella spinta in più, in termini di captazione del glucosio, e di pompaggio muscolare, che male non fa. Potete assumerla anche nel vostro post-workout, è sicuramente una buona alternativa. Io personalmente, di gusto nel post-workout, preferisco una fonte salata. Oppure, quel che faccio è che, 30-45 minuti dopo l'allenamento, prendo una prima fonte dolce, con le whey super digeribile, e un'ora, due ore dopo, faccio il mio post-post-workout, che è salato, che è un altro pasto molto, molto glucidico. Però, di questo ho già parlato in diversi video su Rhino Nation. Ora, ultima fonte, il bulgur. Il bulgur, non so se lo conoscete, è sostanzialmente il grano germogliato. Quindi, un grano che viene fatto bollire, che viene poi fatto germogliare. E il vantaggio del grano, quando è germogliato, è che è più digeribile. Quindi, abbiamo sicuramente un alimento interessante. Ora, il discorso principale del bulgur, e il vantaggio principale, è che è un tipo di grano integrale. Quindi, abbiamo un buon contenuto di fibre, di potassio, di fosforo, di vitamine B, eccetera. Quindi, tutti i vantaggi del grano. Però, essendo integrale, c'è anche un buon contenuto di fibre. Quindi, possiamo assimilare tutto il profilo nutrizionale dell'alimento, quindi non come il grano raffinato che normalmente prendiamo, oltre alla componente di fibre, che è importante. Questo tampona leggermente il carico glicemico, però, di nuovo, se mangiate un quantitativo abbastanza elevato, forse è il caso di aggiungere una fonte di grassi per controbilanciare il carico glicemico e tendere ad abbassarlo leggermente. Ora, ciò detto, per quanto riguarda il bulgur, il mio utilizzo principale, essendo una fonte comunque integrale, è in altri pasti della giornata. Cioè, io comunque nel pre e nel post workout preferisco delle fonti che siano quanto più plain possibili. Questo perché voglio alleggerire il più possibile, e qualsiasi finezza in questo caso, veramente oro, il mio sistema gastrointestinale in un momento così delicato in cui sostanzialmente la priorità sono e devono essere i muscoli. Quindi tutto il sangue che dovrebbe arrivare ai muscoli deve stare là e non deve stare a carico del sistema gastrointestinale, quindi non voglio appesantirlo. Per cui anche in questo caso il bulgur è un alimento che tendo a non utilizzare nel pre e nel post workout, non che ci sia un male, non che dovete evitarlo come una peste, assolutamente, perché comunque è un alimento abbastanza plain. Quindi preferisco io personalmente inserirlo in altri momenti della giornata e in altri pasti associato a una fonte di grassi sempre per evitare uno spike insulinico troppo forte. Però di nuovo è super vantaggioso perché è un alimento integrale con un buon contenuto di fibre e micro elementi che non andiamo a perdere come avviene durante il processo di raffinazione. La cosa anche interessante del bulgur è che è un alimento molto saporito, normalmente viene utilizzato in Turchia. Processo di preparazione potete farlo allo stesso modo, quindi per 100 grammi di bulgur 200 fino a 400 ml d'acqua, lo lasciate riposare, quello pian piano assorbe tutto quanto e l'avete pronto. Poi ci sono sicuramente ricette molto più raffinate di questa che è molto plain, però vi dico semplicemente come tendo a farlo io che sono totalmente incapace e viene utilizzato normalmente originario della Turchia quindi potete speziarlo con delle spezie turche, vedere delle ricette turche, insomma potete sbizzarrirvi da questo punto di vista. Magari andate a inserire della carne di agnello per esempio che viene molto utilizzata in Turchia, è abbastanza grassa, circa un 20% di grassi, quindi avete quella componente lipidica e andate a impreziosirlo per bene e a dargli tanto tanto sapore. Però di per sé è una fonte, è un alimento molto molto speziato, molto saporito. andate a provarlo perché è veramente veramente buono quindi può aggiungere quel pepe in più e come vedete queste sono 5 idee, 5 fonti che probabilmente non state utilizzando almeno non tutte, non so, spero di avervi dato da qualche spunto interessante però scrivete pure voi qua sotto delle fonti che inserite e come vedete ci vuole veramente poco ad avere una dieta comunque varia, a fare tante ricette diverse, sbizzarrirvi se volete in cucina senza dover necessariamente stare attaccati ad un'applicazione e calcolare tutto quanto perché a parte le patate abbiamo tutti alimenti che hanno un profilo nutrizionale piuttosto simile tra loro quindi passiamo dai 75 agli 80 grammi di carboidrati per 100 grammi quindi veramente abbastanza simile non c'è bisogno potete utilizzare la stessa grammatura senza problemi perché poi c'è un margine di errore bisogna vedere dove vengono coltivati i processi di produzione eccetera eccetera ragazzi questo è tutto qualsiasi domanda come al solito scrivete qua sotto sarò ben lieto di rispondere detto questo ci vediamo al prossimo video ciao Grazie a tutti.